Allora io innanzitutto volevo farti tantissimi complimenti, tu sei un grande e volevo farti fare, io sono il salutatore, volevo farti fare un saluto a tutti i tuoi fans che ti seguono da sempre. E a tutti, io saluto, salute e serenità a tutti voi. Ti ringrazio, ho una sorpresa per te, la manina del salutatore per salutarvi te. La manina del salutatore, che belle invenzioni. Ciao! Ciao, facciamo vedere il libro, facciamo vedere. Ecco, grazie Leo, sei un grande, ciao a tutti, tutto il web, grande Leo Colotta, il salutatore, ciao! Il salutatore! Grande! Grazie!